Storia di Iqbal, capitolo 3 Iqbal, me lo ricordo bene, arrivò un mattino all'inizio dell'estate. Il sole era alto e caldo e penetrava nel capannone di lamiera dove noi lavoravamo, con lunghe strisce di luce in cui ballavano mulinelli di polvere. Ce n'erano due che si incrociavano proprio sulla trama del tappeto a cui stavo lavorando, facendone risaltare i colori vivaci, e io immaginavo che fossero due lame di spade impegnate in un duello mortale. Avevo deciso che una era la spada dell'eroe buono e l'altra quella del malvagio. Muovendo i pedali del telaio, riuscivo a fare in modo che la spada dell'eroe per un attimo prendesse il sopravvento, mettendo in fuga il malvagio, che poi però tornava alla carica implacabile. Karim, che aveva quasi 17 anni e aveva ormai le dita troppo grosse e goffe per intrecciare i sottili e delicati nodi dei tappeti, e che perciò era diventato una specie di sorvegliante di noi bambini, diceva che lui era stato al cinema, due volte, e che c'erano delle storie così che alla fine, dopo lunghe tribolazioni, vinceva sempre l'eroe buono, che poi poteva mettersi un bell'abito di seta colorata e andare a chiedere in sposa la sua fanciulla favorita e il padre non poteva dire di no, anzi era contento perché lui aveva sconfitto il malvagio a rischio della vita. Probabilmente era vero che era stato al cinema, intendo, anche se a noi sembrava incredibile una simile fortuna, perché certe sere, quando era di buon umore, Karim ci raccontava gli episodi con tutti i particolari e non se li poteva inventare, non aveva abbastanza fantasia. Erano film lunghi, lunghi e complicati. A raccontarci il primo, Karim aveva impiegato più di due mesi, anche perché non tutte le sere ne aveva voglia, era un tipo lunatico lui. Arrivati alla fine, non ci ricordavamo più l'inizio e gli avevamo chiesto di ricominciare da capo. Pensavo che mi sarebbe piaciuto un giorno andare al cinema. Mio padre e mia madre non c'erano mai stati e neanche i miei fratelli e sorelle. Eravamo troppo poveri. Il cinema era un lusso per i ricchi di città, come la televisione. Il padrone e la padrona avevano la televisione. Di notte, mentre cercavamo di prendere sonno, potevamo sentire quelle strane voci provenire dal salotto della casa di Usain Khan e le luci colorate balenare attraverso le stuoie alle finestre. Karim, sempre lui, sosteneva che una volta era strisciato fino a una delle finestre e aveva sbirciato all'interno, riuscendo a vedere quasi cinque minuti di una partita di cricket. «Cos'è il cricket?» avevo chiesto. «Zitta, tu, stupida!» mi aveva risposto. Ma questa, secondo me, era una bugia. È vero che Karim era un lecchino del padrone e che faceva il sorvegliante per conto suo, perché altrimenti non avrebbe saputo dove andare e come mangiare. Ma non avrebbe mai avuto il coraggio di fare una cosa del genere. Guai a chi si avvicinava alla casa dei padroni. Mi ero distratta. Feci appena in tempo a riprendere un filo che mi stava sfuggendo. Il sole si oscurò. Le due spade di luce smisero di darsi battaglia. Ci girammo tutti. Il padrone era sulla porta e la ostruiva con la sua mole. Era vestito da viaggio, con una lunga palandrana che gli arrivava fino ai piedi e gli stivali leggeri coperti di terra rossa. Nella mano sinistra reggeva una sacca e con la destra stringeva il braccio di un ragazzo di un paio d'anni più grande di me. Lo stringeva da fargli male. Il ragazzo non era molto alto, sottile, bruno. Pensai che era bello, Poi pensai che no, non era bello, ma aveva quegli occhi, gli occhi del mio Iqbal, che ancora adesso ricordo. Erano dolci e profondi e non avevano paura. Era fermo sulla soglia del laboratorio con l'enorme mano di Usain che gli stritolava l'avambraccio e tutti noi che lo guardavamo. Eravamo quattordici allora, più Karim il sorvegliante. Tutti, ne sono sicura, pensammo la stessa cosa, che questo nuovo ragazzo che veniva ad aggiungersi a noi, uno dei tanti che in quegli anni erano arrivati o partiti, aveva qualcosa di diverso che sul momento non riuscimmo a capire bene. Ci guardò, uno per uno. Era triste, certo, come chi da tanto tempo è lontano da casa, dai suoi genitori e dai suoi affetti, come chi è poco più di uno schiavo, come chi non sa quale sarà il suo futuro e cosa sarà di lui. Era triste, come un ragazzo che non ha mai potuto rincorrere un pallone o a girarsi per il succo di pomeriggio cercando di rubare frutta dai banchi o giochiando a piastrelle contro il muro. Ma non aveva paura, accidenti. «Cosa avete da guardare voi?» ringhiò Usain. «Tornate a lavorare!» Ci girammo tutti di scatto verso i telai, ma poi ritornammo a sbirciare da sopra la spalla. Usain portò il ragazzo nuovo a un telaio vuoto proprio accanto al mio. Trasse da sotto la pedana una catena arrugginita e gliela fissò al piede destro. «Questo sarà il tuo posto», gli disse. «Qui lavorerai». «E se lavorerai bene, lo so», disse lui. Usain rimase un attimo interdetto. Prese la solita lavagna, già tutta coperta di segni. «Questo è il tuo debito», cominciò. «E ogni sera io lo so», disse il ragazzo nuovo. «Va bene», disse Usain. «Va bene, signor Sotutto. Il tuo precedente padrone mi aveva avvertito che sei ostinato e superbo, ma qui ti passerà la voglia. Mi ha anche detto, però, che nessuno sa lavorare come sai fare tu, se vuoi. vedremo, vedremo». Usain si avviò verso la porta. Sulla soglia si fermò e puntò il grosso indice verso Karim. «E tu sorvegliano bene», latrò. Karim fece segno di sì con la testa, ma non sembrava molto convinto. Il ragazzo nuovo sedette al suo posto e iniziò subito a lavorare. Restammo tutti a guardarlo in silenzio e con la bocca aperta. Nessuno era abile e veloce come lui. Nessuno sapeva stringere i nodi con tanta precisione e delicatezza. Le sue dita volavano tra le spole del telaio come mai avevamo visto fare prima. e il disegno che Usain gli aveva assegnato era uno dei più difficili. Uno alla volta ricominciamo anche noi a lavorare. Di una cosa eravamo tutti sicuri. Quello non era una testa di legno, oh no, non era per quello che lo avevano incatenato. Era per qualcos'altro. Come ti chiami? gli chiese Karim cercando di fare la voce burbera. Iqbal, rispose lui. Iqbal Masì.